se non di più è arrivata in penetrazione perché Reggio Milano riesce a seguire il primo passo degli avversari dove anche se sarebbe, dovrebbe essere il canotta numero 48 stoppatone, ma è una finta, non riceve, riceve invece il numero 27 Mariccaro che cerca di penetrare, lo perde, fa iè ma poi lo stoppa si va poi da Morini, Solliani, è entrato in campo parente è entrato in campo parente, Faillet non riesce ad appoggiare al vetro 10 minuti, queste le statistiche per i giocatori e infatti Geri può far correre Morini, si va sotto da Faillet contro Cane Faillet si gira, sono altri due punti, in questo momento prova a buttarsi dentro ma perde l'equilibrio sulla grande difesa da parte di Mariccaro poi però la prende, tirata da parte di Faillet su Cane che deve tirare, parte il semigancio 0-0, palla recuperata da parte di Reggio Milano allora Ruggeri alza per Faillet è una lei fucilata intanto al tabellone di Palestrina Nord qua in Palestrina Nord alla Vitri Frigo Arena dovesse vincere Venezia, Varese Andrette pari merito a 4 punti con la difficile star di dietro stiamo parlando di 19 punti in 26 minuti per il grande talento di origini cinesi poi Faillet con grande aggressività tra 7 a 90 poi Cavallero che vuole mettersi si dimostra in isolamento contro Faillet lo fa saltare e lo fa saltare e lo fa saltare